A raccontarlo viene quasi la rabbia e viene quasi da chiedersi, ma è vero che l'Italia è divisa in due? Ce n'è una dove tutto funziona, in particolar modo la sanità, l'altra dove la sufficienza e il menefreghismo la fanno da padrona. Vogliamo solo raccontare ciò che è accaduto qualche giorno fa. In merito alla sanità, un paziente torna dall'Italia settentrionale dopo aver subito un intervento cardiochirurgico di notevole importanza. L'intervento si è svolto al Policlinico di San Donato Milanese e successivamente dimesso è stato consigliato al paziente di recarsi al TAO della sua ASL per farsi dosare, dopo attente indagini, i medicinali da assumere. Qui casca l'asino. Il paziente è arrivato a casa, dopo le dimissioni si reca, dopo due giorni, al TAO dell'ASL di Salerno, che si trova all'ospedale di Pagani. La struttura è aperta, il servizio sembra funzionare, ma il medico cardiologo è in ferie giustamente. Per cui non c'è cardiologo che possa refertare la situazione cardiologica del paziente. Il tutto si normalizzerebbe, a dire di uno degli infermieri, solamente il 4 di settembre. Per cui tutti i pazienti cardiologici che potrebbero aver bisogno di una consulenza devono avere pazienza e sperare nella buona sorte. Ci chiediamo, è possibile che siamo alla disorganizzazione di un servizio indispensabile per quanti sostengono o subiscono interventi cardiologirurgici e debbono quindi continuamente assumere medicinali per combattere la coagulazione del sangue. Abbiamo apprezzato moltissimo l'intervento del responsabile dell'ospedale di Pagani, dottore Mario Salucci, che ha difesa e giustificato la professionalità e il lavoro della equip. La qualcosa noi non mettiamo in discussione, ma sicuramente e pesantemente ci lamentiamo della disorganizzazione del sistema lavoro che si pratica all'interno delle nostre strutture ospedaliere, dentro le quali si spendono centinaia di migliaia di euro per cose molto spesso inutili e poco costruttive, mentre ci si perde in un bicchiere d'acqua per assicurare interventi decisivi spesso per la vita di un essere umano. E in conclusione ci chiediamo anche, ma il servizio di analisi è ancora chiuso? Ma perché è stato sospeso? Non si è riuscito a trovare i sostituti per coloro che dovevano andare in ferie? Beh, se questo è vero, è vero che l'Italia è divisa in due, una che funziona e l'altra, beh, immaginate voi.